Dove vai? Esco con gli altri. Mi avevi permesso che oggi restati con me. Hai di nuovo litigato con tua madre. È dura perdere una figlia. E perdere una sorella con me. Ce l'ho con mia sorella perché mi ha lasciato sola. Ti chiami Alex? No. Jopul. E tu? Marion. Dimmi, ti vuole bene quel ragazzo? È il tuo ragazzo? No. Sì. Non saprei. Mi hai salvato la vita. Dovresti andartene a casa. Sì, dovrei, ma non mi va. Alex! La libertà è il sentimento di non aver paura. La libertà è il sentimento di non aver paura.